Ciao amici inizio in cucina, sono Maria. Oggi preparerò il pan di spagna soffice come quelle delle pasticcerie in 5 minuti. Vado subito alla preparazione. Inizio con rompere le uova. Adesso metto lo zucchero, la farina, il lievito, un pizzico di sale, l'immontante, il montante che lo vendono nei negozi specializzati di pasticceria. Adesso aggiungo l'essenza all'arancia. Vedete che è un bello invitato. Adesso la versione dell'anegna. E adesso l'ho lavato. lo metto in forno a 180 gradi per un'ora è pronto, 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 lo fate raffreddare, lo coprite con un canavaccio, lo mettete in un luogo asciutto, a me dura anche 15 giorni, lo vedete come è morbido? c'è un modello buonissimo e adesso vado all'assalto, un po' con caramani buono è sofficissimo, provate a farlo, non ve ne pentirete buono